Oggi Wine Food Rec ritorna con la sua prima recensione del 2018 e lo fa con un vino conosciuto in tutto il mondo che è il Chianti Classico. Questo Chianti che abbiamo selezionato oggi è prodotto da Meini ed è una DOCG, ma andiamo a vedere tutte le caratteristiche durante il nostro test. L'etichetta sembra eccessivamente classica con i bordi lavorati per simulare l'effetto pergamena con dei particolari decori in rilievo che stonano nell'aspetto generale. Il tappo è un po' sottotono rispetto al prodotto contenuto, infatti è un agglomerato che solitamente non viene utilizzato per vini di fascia superiore ai 10 euro, ma comunque al momento dell'apertura non presentava alterazioni. Alla vista si presenta con un colore rosso granato con leggere sfumature tendenti all'arancione. Troviamo una media trasparenza, buona viscosità e comunque nessun difetto visivo, quindi una buona conservazione per un vino dell'annata 2008. Al naso è facile intuire che non siamo di fronte a un vino giovanissimo. Le sensazioni dominanti sono quelle legate allo speziato e alla liquirizia, che sono la conseguenza dell'affinamento in legno che ha effettuato questo vino. In bocca risulta poco sfrutturato, un po' sbilanciato sulle sensazioni pungenti, con elevata freschezza. Il tannino è molto morbido, la persistenza dopo la deglutizione non è molto lunga. Infine possiamo abbinare questo nostro vino a carni rosse o a formaggi stagionati. Siamo arrivati alla fine della nostra recensione, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Ciao!